Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video scopriremo insieme chi sono i due vincitori del primo giveaway organizzato dalla Maschera Riposta in occasione del raggiungimento dei nostri primi 500 iscritti. Tra l'altro nel frattempo siamo arrivati già a 600 quindi fantastico vi ringrazio moltissimo per questo se cresciamo di 100 persone ogni due settimane insomma direi che è un ritmo di crescita molto molto interessante ci metterei la firma diciamo. Allora prima di scoprire insieme chi sono i vincitori dei nostri due premi in palio che sono lo voglio ricordare un buono steam da 25 euro per chi ha scelto il premio per videogiocatori e il gioco da tavolo labirintos per chi ha spedito a nostre spese per chi invece ha scelto il premio per giocatori da tavolo. Ecco prima di scoprire chi sono i vincitori vi voglio dire un paio di cose. Allora intanto voglio dirvi che abbiamo attivato un nuovo programma di affiliazione. Vi ho già parlato un po' dell'affiliazione forse in qualche video in passato io ho già da tempo attivato l'affiliazione con amazon e allora diciamoci la verità amazon non è un granché per quanto riguarda l'acquisto di giochi da tavolo per quanto riguarda diciamo che su amazon si possono trovare a volte anche scontati i giochi di più grande successo diciamo però ecco se uno vuole il vero appassionato che vuole nella sua collezione anche giochi che vadano un po' oltre appunto quelli più amati diciamo dalle masse di giocatori così casual per così dire ecco per quei giocatori amazon non è la scelta la scelta migliore è meglio rivolgersi per i propri acquisti a un negozio specializzato. Io sono stato contattato qualche settimana fa dal negozio specializzato dungeon dice.it che è uno dei negozi insomma probabilmente lo conoscerete lo conoscerete già voi che voi che mi sto ascoltando in questo momento è uno dei negozi più noti insomma affidabili dall'inventario più più ricco in in italia quindi ho già iniziato a mettere sotto a nelle descrizioni di dei miei video i link di affiliazione appunto a dungeon dice per l'acquisto di giochi da tavolo voglio spendere due minuti per spiegarvi un po' come funziona l'affiliazione perché secondo me non è molto chiaro ed è una cosa questa che dovrebbero fare che dovrebbero spiegare anche gli youtuber famosi celebri no io sono un piccolissimo youtuber appena nato ma insomma penso sarebbe interessante se questa cosa venisse spiegata un po' meglio allora il concetto è molto semplice quando voi cliccate su un link di affiliazione non dovete comprare la roba per cui avete cliccato questa è una cosa che non tutti sanno va bene cioè basta che voi rimaniate all'interno di quella sessione per così dire e potete comprare qualsiasi cosa e l'affiliazione comunque funziona quindi per esempio io ho preso questa abitudine ok io tutte le volte che compro su amazon e compro spesso su amazon come immagino molti di voi io uso sempre un link di affiliazione alla fine questo è un modo assolutamente gratuito per supportare i creator no è veramente una di quelle una di quelle uno di quei meccanismi in cui sono tutti vincitori siete vincitori voi perché non spendete niente di più nel nel supportare i vostri creatori sono felici creatori perché gli date un supporto è felice amazon perché comprate attraverso amazon e usate comunque un programma che loro hanno hanno attivato quindi prendete anche voi questa abitudine ogni volta che dovete fare un acquisto su amazon di qualsiasi tipo un libro un cd una roba di elettronica andate su un video di un creator che vi piace potete fare ogni volta un creator diverso no magari abbiamo tutti noi tanti canali che ci piacciono molti di questi canali hanno link di affiliazione ecco voi andate su sotto questi video cliccate sul link di affiliazione poi rimanete all'interno di quella sessione che cercate su amazon quello che vi interessa veramente e lo acquistate rimanendo appunto all'interno di quella sessione d'accordo potete fare la stessa cosa anche con dungeon dice ok io per esempio da qualche tempo in avanti metto sotto i miei video la lista di link di affiliazione relativi alla mia attrezzatura che uso per i miei video questa è una roba che fanno molti creator no non che la mia attrezzatura sia particolarmente ardita anzi è un'attrezzatura molto semplice però è un modo per mettere dei link di affiliazione sotto ogni video no quindi d'ora in avanti metterò appunto questi link di affiliazione sotto ogni video e se volete a costo zero dare un supporto a noi o a qualunque altro creator che usa questa tecnica mi raccomando usate l'affiliazione è appunto una 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 cosa assolutamente a costo zero no che dà vantaggi a tutti i partecipanti diciamo a questo scambio allora signori nel nel form che avete compilato per partecipare al giveaway c'era anche una casella che chiedeva è una una sezione che chiedeva di dare dei commenti no se avete dei commenti delle osservazioni delle critiche al canale se le avevate potevate scriverli in questa in questa casella naturalmente voi potete fare sempre tutte le osservazioni che volete sul canale nei commenti ai video e anzi vi invito qualunque suggerimento vi venga in mente qualunque critica magari c'è qualcosa che non va da punto di vista tecnico a cui io non ho neanche pensato perché non è che sia sto grande espertone va bene quindi mi raccomando scrivete sotto sotto i video se c'è qualche qualcosa che vi sembra possa essere migliorabile ho stampato ho ricevuto tantissimi complimenti in questi in questi in questa casella di commenti io vi ringrazio tantissimo non mi pare il caso insomma di leggere tutti tutti i complimenti va bene ho stampato qui un po delle delle osservazioni delle critiche dei consigli voglio darne una letta veloce no penso possa essere una cosa interessante e utile per esempio non so sono assolutamente anonimi quindi non ho idea cioè io so chi ha messo ogni posso diciamo controllare nel forum chi ha messo ogni commento ma qui li ho messi così in maniera assolutamente casuale quindi non so chi abbia scritto cosa per esempio il primo che ho stampato dice da questo consiglio penso sarebbe molto educativo dedicare uno spazio ai giochi ritenuti mal riusciti dalla maschera quelli signati della cocarda delusione titoli come the age of decadence alex two worlds una rubrica del come non si fa beh questo potrebbe essere potrebbe essere certo potrebbe essere interessante sì 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 potrebbe essere lo spunto no per una per una rubrica futura un altro commento dice il canale è una bella impostazione ed è organizzato in maniera adeguata l'ammatorialità forse spicca un po troppo dalle copertine dei video dove servirebbe uno sfondo magari più simmetrico secondo me sarebbe meglio lasciare dietro solo la mappa di oblivion e i dadi allo sfondo durante le recensioni e la mostra delle collezioni sì è vero chiunque tu sia hai ragione l'ammatorialità spicca anche perché l'ammatorialità c'è nel senso che ho fatto tutto io è vero questi sfondi non sono il massimo purtroppo per il momento ci dobbiamo accontentare allora no per quanto riguarda le miniature la grafica del logo ho intenzione di migliorare un po le cose mi devo rivolgere a un grafico professionista perché quello che vedete le uniche cose per cui mi sono rivolto a professionisti sono la musica le musiche della si e l'animazione della sigla iniziale quelle sono le uniche robe per cui mi sono rivolto a professionisti tutto il resto il logo lo sfondo le miniature le faccio tutte io e ovviamente ci vorrebbe l'intervento di un grafico quindi io spero insomma ovviamente sono cose che un po costano però penso che il valore che danno al canale al progetto in generale sia 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 insomma positivo quindi è tutto ho l'intenzione prima o poi di rivolgermi a un grafico professionista di farmi fare anche anche solo un banner per il sito che sia insomma più bello di quello di quello presente attualmente lo stesso commento dice anche come impostazione dei video va bene ma preferirei che partendo da un episodio x di un franchise poi si vada a concludere il franchise nei video successivi per capire l'evoluzione di un determinato gioco ecco pensa che invece io chiunque tu sia pensa che io faccio apposta a fare il contrario cioè nel senso fatto faccio apposta a evitare di parlare un video dopo l'altro sempre dello stesso gioco per esempio avrei potuto fare il video su baldur's gate il video su siege of dragon spear il video su baldur's gate 2 invece ho deciso di lasciar passare del tempo per non dare l'impressione di parlare sempre dello stesso gioco insomma però ecco prima o poi le varie serie di cui mi occupo saranno trattate nella loro interezza quindi bisogna solo avere bisogna solo avere un po' di pazienza allora vediamo un po' un altro commento dice mi piacerebbe che negli esempi di gioco da tavolo tu mostrassi sempre una partita intera nonostante l'elevata variabilità dei tempi e della durata che deriverebbe per i video però comprendo che tu magari avrai già preso in considerazione questo bla 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 allora sì capisco che sarebbe bello vedere una partita intera però questo vorrebbe dire creare esempi di gioco lunghi ore e ore e tenete presente che molte delle critiche che ricci molto insomma alcune delle critiche ci ci sono spettatori che lamentano il fatto che i video sono troppo lunghi quindi sono un po indeciso su questa cosa penso che sia fare vedere qualche turno è un metodo che usano anche molti molti youtuber no ben più di una caratura ben maggiore rispetto al sottoscritto insomma quella di mostrare qualche turno di gioco è vero alcuni giochi soffrono più di altri nel mostrare una partita incompleta perché magari alla fine della partita hanno qualcosa che succede hanno magari un modo per calcolare i punti particolari che sarebbe bello indagare in maniera un po dettagliata però sì i video diventerebbero veramente veramente lunghissimi insomma non sono sicuro che l'attenzione che l'attenzione degli spettatori poi rimarrebbe alta per tutto quel tempo no andiamo avanti se posso dire la mia i video delle collezioni delle opinioni vanno bene infatti sono quelli che seguo di più ma i video degli esempi di gioco li trovo troppo pesanti da seguire durano moltissimo ecco appunto e spesso mostrano mostrando quasi esclusivamente le prime ore letteralmente di gioco a questo sta parlando chiaramente dei giochi di ruolo no dei videogiochi è difficile che si possa avere una visione abbastanza completa di quello che il gioco può offrire io rivedrei un attimo come costruire questi video è sì capisco capisco perché ci sono giochi di ruolo per computer che nelle prime battute sono diversi rispetto a come sono poi tipo hanno un una impostazione nelle prime ore e poi questa impostazione per le decine se non centinaia di ore successive cambia un po no il mid game è molto diverso dall early game diciamo è vero però sapete qual è il problema qua che io non per tutti i giochi che tratto ho salvataggi da parte fatti in un momento a partita avanzata quindi cioè allora far vedere l'inizio fa vedere un po il punto di partenza della situazione no anche da un punto di vista narrativo evita qualunque tipo di spoiler perché fa vedere appunto solo l'inizio e mi permette di parlare di un gioco anche se non ho un salvataggio da parte fatto in un momento avanzato di partita quindi capisco quello che vuoi dire però non lo so è difficile rivedere la costruzione di questi video magari se avete dei consigli a riguardo fatemi sapere perché su questo punto sono un po in difficoltà devo dire andiamo avanti seguo unicamente la parte dei giochi di ruolo che trovo sempre molto interessante quello che non mi piace è la dilatazione temporale fra i video ma capisco che non è certamente una cosa facile considerando la qualità dei contenuti gli attuali numeri come detto anche da te la suddivisione dell'energia nei due ambiti cioè la dilatazione temporale intendi chiunque tu sia il fatto che passa troppo tempo fa video e l'altro perché in realtà ho ricevuto molte e molte critiche opposte a questa cioè nel senso in molti si si sono lamentati del fatto che carico troppa roba e molti mi dicono guarda mi piacerebbe seguire tutto ma non ce la faccio ecco chiunque di voi diciate questa cosa non preoccupatevi perché i ritmi ovviamente rallenteranno in futuro adesso sto approfittando di questa disoccupazione forzata ma spero che finisca ovviamente prima prima possibile è difficile che io riesca a fare più video di quelli che faccio relativi ai giochi di ruolo è cioè richiedono comunque tempo richiedono comunque energie allora andiamo avanti mi piace molto tuo canale bla 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 mi tieni in compagnia di un altro smart working bene bla 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 allora critiche forse potresti investire di più su un montaggio del video un po più dinamico aggiungendo immagini più dettagliate di eventuali sezioni di plancia o carte quando spieghi ma di sicuro richiede un impegno maggiore di post produzione è certo certo sì su questo sono molto d'accordo certo sarebbe allora avete presente come non so se qualcuno di voi segue lo youtuber rado che fa questi questi gameplay di giochi da tavolo e ha avuto un'evoluzione molto interessante nei suoi primi video aveva questa telecamerina che teneva in mano per tutto il tempo quindi continuava a muoversi sul tavolo mostrando i momenti bravissimo perché io non so come farei a parte che la mia pesa otto chili forse lui aveva una una cosina un po più sgarzolina e leggera adesso invece ha tutta una postazione adesso insomma con l'aumentare diciamo del successo ha investito sul suo canale adesso ha una postazione fantastica in cui ha una videocamera che riprende lui un'altra che riprende il tavolo e un'altra che praticamente ha un green screen dietro e quindi è sovrapposta diciamo a quella che mostra il tavolo su cui può mostrare da vicino i componenti quindi se deve mostrare una carta da vicino usa questa terza videocamera però questo vuol dire che appunto ha tre se non di più videocamere un setting cioè dovrebbe avere uno studio ecco bisogna bisogna avere una postazione dedicata a quello per fare una cosa del genere e io non ce l'ho anche chi prima si lamentava del fatto che ci sono sfondi un po casalindi sì questa è casa mia questo è l'unico sfondo decente che posso utilizzare perché dall'altra parte dove sto guardando io c'è la mia cucina va bene quindi non mi parla del caso con i fornelli con i fornelli dietro la schiena quindi ecco purtroppo non ho proprio le possibilità tecniche per il momento di fare di fare meglio di così dovrei avere più videocamere dovrei avere soprattutto una postazione perché non puoi non puoi costruire un setting con 8000 videocamere già voglio dire adesso io tutte le volte che giro un video monto tutto il setting e poi lo smonto tutto incluse le luci che utilizzo per per gli esempi di giochi da tavolo per mostrare la collezione dei giochi di ruolo già così è complicatissimo ogni tanto guardo l'ora scusate perché non vorrei non vorrei stare parlando per troppo tempo dicevo già così è complicato non montare smontare ogni volta purtroppo dubito di riuscire a fare meglio ovviamente proverò a migliorare però per il momento finché ho a disposizione questi spazi sarà un po complicato in futuro conto di avere a disposizione spazi non è che voglio passare tutta la vita in questo buco piccolissimo di casa ovviamente però per il momento per il momento sono qui va bene allora andiamo avanti apprezzo molto i video il nostro parere bla 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 ben fatti anche gli esempi di gioco ma ammetto che la parte di presentazione dei lego anche se simpatica l'assalto beh sì va bene anzi i capitoli sui video sono fatti apposta capisco capisco benissimo va bene anch'io anche io seguo degli youtuber e spessissimo salto sezioni intere dei loro video perché non mi interessa quello di cui stanno parlando quindi non c'è problema molto chiaro e con ottimi spunti tattici nota negativa quando ci presenti giocatori lego scherzo ecco va beh questo più o meno era simile ciao mosè complimenti bla 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 potrei essere d'accordo sul fatto che vengono caricati molti contenuti che magari quando si perde il giro si fa fatica a recuperare ecco appunto questo chiunque tu sia questo qui si sta un po lamentando il fatto che vengono caricati troppi contenuti però tranquilli questa cosa appunto non durerà non durerà va bene grande mosè complimenti per quello traguardo quello che mi piace molto il tuo canale la chiarezza espositive la scaletta ordinata che tiene nei tuoi video così una persona se vuole cercare quel gioco videogioco vuole la tua opinione sa dove andare a cercare vuole un unboxing cerca quello eccetera molto bene ti consiglio di usare il form dedicato alla community in cui puoi annunciare notizie fare mini sondaggi sponsorizzare il video per il resto continua così allora chiunque tu sia sappi che il community tab si attiva solo da un certo punto in avanti cioè non posso usare il community tab perché non è attivo per i canali più piccoli forse si attiva a partire dai mille c'è una roba che si attiva a partire dai diecimila quindi quella probabilmente non raggiungerò mai forse sono le stories che si attivano arrivati arrivati ai diecimila un dubbio penso che la community tab si attivi arrivati ai mille sì penso di sì comunque per il momento non posso usarla caro amico bla 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 se posso dare un consiglio è quello di fare qualche chiacchiera in meno in modo da rendere i video un po più corti sì questo posso capirlo ma sono un po come dire sono un po sì è un po una mia caratteristica forse quella di fare quella di fare qualche chiacchiera in meno qualche chiacchiera di troppo diciamo quindi portate pazienza penso di essere già forse un po migliore sto cercando un po di migliorare da questo punto di vista ce la metterò tutta per migliorare ancora di più da sì direttore apprezzato moltissimo ma se posso suggerire qualcosa penso che sarebbe molto carino realizzare degli excursus sulle singole case di sviluppo bethesda bioware obsidian beh sì questo è molto interessante questo è un bello spunto come anche il primo che ho letto no il la rubrica del come non si fa certo questi sono tutti spunti utili ecco se avete idee di questo tipo mi raccomando condividetele con me perché può essere può essere una 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 bella idea certo caro mosati parlo giocatore da tavolo bla 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 ok qualche suggerimento se posso i tempi degli esempi di gioco sono molto lunghi ecco vedete prima un altro diceva fai le partite complete per favore questo sta dicendo i tempi di gioco sono molto lunghi e questo non fa piacere all'utenza di oggi che preferisce video sempre più brevi le due ore per esempio di gioco di site o gli oltre 40 minuti per 8 minuti forse sono eccessivi sì forse sono eccessivi è vero però sì è difficile appunto prendere una decisione fra questi due estremi no ci sono quelli che mi dicono fai partite complete per favore quelli che mi dicono fai video più brevi per favore non è semplice io cerco nei miei video di gameplay come avrete notato di spiegare il senso dietro ogni mossa la strategia che ci può essere dietro ogni mossa penso che questo sia utile ovviamente questo dilata moltissimo i tempi no poi quando si gioca davvero tutto diventa molto più breve no e ovviamente si riesce a giocare a 8 minute empire non in 8 minuti come dice la scatola ma sicuramente in meno di 40 ecco un ultimo suggerimento è quello di uscire dalla routine ravvivando il canale con qualche presenza di altri personaggi del settore interviste pareri in due collaborazione sì questa può essere una bella idea non so è quando si allora quando si ha in mano qualcosa personalmente quando si ha tutto in mano personalmente si può dare una certa coerenza di fondo al proprio progetto e si è sicuri di star contando solo sulle proprie forze e quindi si è sicuri di poter fare progetti in maniera relativamente sicura e tranquilla quando si collabora cambia tutto quando si collabora bisogna mettere assieme energie tempi progetti di persone diverse quindi sì qualche qualche piccola collaborazione one shot non la escludo però penso rimarrà comunque sempre qualcosa di raro nel nel in questo canale va bene qualche idea per contenuti futuri mi piacerebbe vederti all'opera con age of empires 2 per quanto riguarda il pc age of empires 2 è uno dei miei giochi preferiti in assoluto ci ho giocato tantissimo all'epoca adesso sto giocando all'enhanced a no come si chiama la definitive edition ci sto giocando anche online con un mio amico però non c'entra niente ho paura a mettermi a parlare anche dei giochi che non sono giochi di ruolo già così mi pare che il canale abbia molto di cui parlare non vorrei non lo so magari in futuro e non lo escludo del tutto però vorrei mantenere il focus sui giochi di ruolo e room wars per quanto riguarda i giochi da tavolo non lo conosco è un american non è un tanto un gioco che nelle mie corde però non escludo completamente di giocare a giochi america né ce n'è qualcuno a cui a cui ho giocato e a cui sto giocando quindi prima o poi parlerò anche dei giochi di quella categoria però ecco non lo so vediamo potrei parlare di room wars però non voglio don't hold your breath come diciamo noi anglofoni va bene mi piace tutto dice un altro sarebbe bella una collaborazione ad esempio con il sito multiplayer.it in modo da coprire settori che loro trattano pochissimo giochi da tavolo e multiplayer.it è un colosso per cui io ho un po collaborato mi pare sapete che ho un vuoto di memoria forse per qualche mese io collaborai ma tipo vent'anni fa se non di più scrivendo qualcosa relativa ai giochi di ruolo ai giochi di ruolo per per computer ho veramente un vuoto di memoria riguardo a multiplayer però vabbè non ho intenzione di proporre mie collaborazioni a dei siti finora ho l'unica collaborazione seria l'unica roba professionale seria che ho fatto riguardante i giochi di ruolo è la collaborazione con giochi per il mio computer che è andata avanti per diverso tempo come sapete forse molti di voi mi hanno conosciuto proprio là ed è una cosa che che mi è stata chiesta da giochi per il mio computer quindi se dovesse nascere qualche possibilità di collaborazione con multiplayer non la escludo in partenza mi pare che l'impostazione di questi grandi siti sia molto diversa rispetto a quella che ho io in questo momento quindi non so se potrebbe funzionare però vabbè non escludiamo nulla inoltre sarebbe interessante anche tutta la componente storica sugli rpg secondo me potreste entrambi avere benefici da una simile collaborazione allora sta sempre parlando sta sempre parlando di una possibile collaborazione con multiplayer ma vabbè non lo escludo del tutto però ecco lo so vediamo vediamo se sono rose fioriranno come si suol dire per il momento non sono non c'è non c'è nessuna niente in 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 campo però non lo escludiamo del tutto andiamo avanti comprimiti per il canale bla 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 alle uniche critiche che vi sento di fare sono per quanto riguarda la lunghezza di taluni video che risultano spesso comparabili alla lunghezza di un film il che significa che un utente deve ritagliarsi una bella fetta di tempo per riuscire a guardare completamente certo capisco quindi magari snellire un po il minutaggio sarebbe una possibile idea ma non di tanto perché altrimenti il canale perderebbe la sua impronta così particolare e unica nella mente di youtube i tagli durante i video ridotti al minimo sono una vera rarità quindi continua così i tagli in che senso i tagli tipo tra una frase e l'altra mentre parlo sapete che io non capisco perché gli youtuber moltissimi youtuber anche molto celebri utilizzano questa tecnica cioè dicono una frasetta poi fanno il taglio poi un'altra frasetta poi un altro taglio ma mi chiedo usano questa tecnica perché non riescono a fare un discorso spero di no per loro perché non riescono a fare un discorso di dieci minuti senza senza organizzarselo un minimo in testa o è perché così tagliano le pause fra una frase e l'altra e il video diventa più veloce sapete che non ho idea del perché molti usino usino questa tecnica comunque vabbè non importa non chiediamoci cose snellire il minutaggio ecco questo è questo è un problema ne abbiamo già parlato è inutile continuare a tornare sulla stessa cosa no snellire il minutaggio sì sarebbe bello però d'altro canto tu stesso dici snellire ma non di tanto cioè è difficile trovare un equilibrio se il canale vuole mantenere la sua identità deve avere se io voglio mantenere la mia identità devo mantenere comunque questo approccio diciamo molto approfondito però sì su youtube vanno molto le cose veloci brevi anche questo video che sto facendo adesso secondo voi sarà pieno di rambling tempo perso però non voglio neanche perdere la 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 così le mie caratterizzazioni insomma le mie caratteristiche allora l'altra critica è solamente relativa al fatto che in alcune inquadrature come quando mostri le minifig lego idea geniale la macchina che utilizzi per le riprese non riesce a mettere a fuoco pur ci mette molto tempo di prendere il fuoco sì è vero è vero però dovete sapere che io per comprare questa questa fotocamera videocamera ho fatto anche un investimento è perché non sono mai stato uno che fotografa fa video io nella vita quindi l'ho comprata appositamente per questo per questo canale e l'ho comprata da ignorante totale seguendo consigli letti online manco anche adesso non ho ben capito tutte le sue caratteristiche quindi sì probabilmente dovrei fare un upgrade però ragazzi ho appena cominciato quindi sicuramente prima o poi farò farò un upgrade sì mi serve una macchina che riesca a mettere a fuoco in maniera più sono d'accordo però per il momento ci teniamo quella che ho forse la cadenza di video pubblicati ultimo che voglio leggere è troppo frequente faccio fatica a seguire tutto e mi dispiace perdermi alcuni contenuti sì hai ragione fino a questo momento era troppo frequente e vabbè adesso appunto questa cosa cambierà va bene quindi non preoccuparti chiunque tu sia la cadenza dei video troverà troverà una sua una sua natura un po più un po più sì insomma che non renda un lavoro diciamo seguire seguire tutti i contenuti proposti va bene questi signori erano le critiche e suggerimenti che mi sono stati dati in questo form ma adesso basta perdere tempo e facciamo una prima estrazione quindi diamo un'occhiata assieme abbasseremo lo sguardo sul tavolo per farlo perché voglio mostrarvi i miei device d'accordo quindi iniziamo facendo l'estrazione del vincitore del buono steam da 25 euro allora signori il nostro giveaway funziona in questo modo vedete io qui ho messo tutti i nickname dei partecipanti ho collegato ciascun nickname a un numero d'accordo e adesso useremo un'app ecco io adesso quando cliccherò su questo su questo questo è un'app che genera un numero casuale da 1 a 100 ok però naturalmente noi non abbiamo 100 partecipanti adesso stiamo estraendo il buono steam va bene abbiamo 33 partecipanti vedete e ne abbiamo 35 c'è un bel equilibrio vedete ne abbiamo 35 invece che hanno scelto labirintos il gioco da tavolo quindi io adesso cliccherò cioè farò tap su questo schermo e se esce un numero da 1 al 33 bene se no continuerò a fare tap finché non esce un numero fra 1 e il 33 va bene questo è il metodo un po empirico con cui faremo la nostra estrazione quindi signori rullo di tamburi il buono steam va al numero non esce niente va al numero 64 no non ci piace 67 non ci piace 41 non ci piace 49 non ci piace 3 o 3 ci piace e 3 signori è guardate manuel del priore quindi complimenti manuel del priore hai vinto il buono steam da 25 euro ti contatterò per metterci d'accordo appunto su come per far per insomma così mi potrai dire qual è il nome del tuo account su cui accrediterò questo buono regalo congratulazioni bene chiunque tu sia congratulazioni per la vittoria e adesso passeremo naturalmente fra pochissimo all'estrazione dell'altro premio il gioco da tavolo labirintos ma prima vi voglio velocissimamente vi rubo un altro minuto per dirvi qual è il programma riguardo al al alla programmazione per quanto riguarda i giochi di ruolo per computer va bene allora nel form c'era anche la possibilità di scegliere di scegliere fra un ventaglio di titoli un titolo da giocare completamente assieme nel canale d'accordo e vi voglio dire che ha vinto pathfinder kingmaker anzi voglio dire le percentuali le percentuali più giuste vediamo se riesco a recuperarle non ci ho pensato allora vediamo eccolo qua vediamo un po perfetto allora riepilogo vediamo ecco qua allora pathfinder kingmaker ha preso il 28,3 per cento dei voti secondo classificato umano ma c'è un pari merito attenzione con le ultime risposte c'è un pari merito e e niente a questo punto dovremmo fare dovremmo fare un nuovo un nuovo sondaggio me ne sono accorto in questo momento scusate fino a tipo all'ultima risposta era in vantaggio era in vantaggio pathfinder kingmaker adesso invece c'è un pareggio 28,3 incredibile 28,3 per pathfinder kingmaker 28,3 per cos'è per the outer world va bene quindi in questo momento abbiamo un pareggio fra questi due signori niente dovremmo andare al ballottaggio facciamo il doppio turno va bene come quando si eleggono si eleggono i sindaci faremo un ballottaggio fra queste due opzioni poi c'è al 17 per cento tyranny al 13,2 pillars of eternity 2 poi non mi esce neanche la percentuale ma insomma grid fall grid fall e outward sono staccati poi nelle nelle ultime posizioni quindi ero convinto di potervi dire che perché gameplay avremmo fatto invece non ve lo dico tanto abbiamo comunque tempo per decidere quale sarà il gioco fra questi due quindi faremo a questo punto un nuovo un nuovo sondaggio diciamo in futuro c'è tempo perché questo è il modo in cui ho intenzione di procedere va bene allora abbiamo altri dunque uno due tre quattro video storici va bene quindi il prossimo sarà il 16 di aprile adesso questo video verrà messo nel canale il giorno 10 aprile 2021 ok e quindi venerdì della prossima settimana avremo un altro episodio della nostra serie storica ci occuperemo degli anni fra il 95 e il 99 anni pazzeschi gli anni del rinascimento cosiddetto del del gioco di ruolo per computer poi abbiamo altri tre episodi che alterneremo a presentazioni di giochi quindi no classici esempio di gioco video con il mio parere se c'è una collezione video con la collezione quindi alterneremo presenterò altri tre giochi va bene quindi il 23 aprile presenterò un gioco il 30 aprile altro episodio della serie storica dal 2000 al 2004 il 7 maggio presentazione di un gioco il 14 maggio episodio storico dal 2005 al 2009 il 21 maggio presentazione di un gioco non vi dico che giochi sono anche se ho già deciso quali sono e il 28 maggio ultimo episodio dal 2010 al 2015 questa serie storica per il momento la facciamo arrivare fino al 2015 va bene e qui siamo arrivati a fine maggio in pratica poi voglio usare tutti i venerdì di giugno per parlarvi di è una cosa di qui sto parlando già da tanto tempo a cui ho fatto accenni già tante volte voglio usare questi quattro venerdì per parlarvi di the elder scrolls online un gioco che mi sta piacendo moltissimo che in questi ultimi anni ha assorbito forse gran parte del mio tempo di video di videogiocatore e quindi ve ne voglio parlare adeguatamente e non basta un video con un esempio di gioco per parlare di una roba così sterminata d'accordo quindi ci dedicheremo tutto un mese a the elder scrolls online quattro venerdì e in ogni venerdì in ogni video del venerdì vi parlerò di un elemento diverso di quel gioco quindi magari in un venerdì vi faccio vedere un'ambientazione particolare in un'altra ve ne faccio vedere un'altra in un venerdì vi parlerò del sistema di crafting in un altro sistema di combattimento adesso devo ancora decidere come organizzare i contenuti ma insomma voglio appunto parlare approfonditamente di questo gioco e in occasione di questi della pubblicazione di questi nuovi video pubblicherò anche una nuova recensione sul sul sito va bene quindi in pratica siamo coperti con i giochi di ruolo fino alla fine di giugno quindi sarà poi a partire da luglio che ci dedicheremo al gameplay completo di questo gioco che a questo punto dobbiamo ancora scegliere di cui dobbiamo fare per il quale dobbiamo fare il ballottaggio va bene e quindi abbiamo ancora tempo insomma per decidere che gioco sarà e io spero ecco voglio dedicare queste settimane di attesa anche per approfondire la conoscenza perché molti di voi una cosa che non ho letto ma insomma in molti anche nei commenti al canale mi hanno suggerito e continuano a suggerirmi di provare a usare twitch per il gameplay e ecco userò queste settimane anche per entra un po in confidenza con twitch di cui non so assolutamente nulla per capire se è il caso appunto di perché possiamo anche provare a fare questi gameplay in diretta no sarebbe una cosa bella sarebbe una cosa divertente vediamo vediamo come evolve la situazione anche in termini di numeri del canale no da qui alla fine di giugno come come va insomma la situazione anche per quanto riguarda poi il mio lavoro principale perché se improvvisamente riparte il mio lavoro principale ne dubito è che riparta con i ritmi normali quest'estate secondo me riparte con i ritmi normali forse l'estate prossima però magari qualcosa ripartirà quindi dipende anche molto da quello ovviamente questa è una possibile roadmap che vi ho appena detto per quanto riguarda i giochi da tavolo invece tutto rimane come sempre cioè ogni lunedì presento un gioco quello non mi dà particolari problemi perché appunto i giochi da tavolo assorbono infinitamente meno tempo rispetto rispetto ai giochi di ruolo per computer per essere analizzati analizzati per bene d'accordo quindi questa è una possibile roadmap ma sappiate che può essere modificata a seconda di come evolvono gli eventi d'accordo bene signori ma adesso basta bando alle ciance e passiamo alla seconda estrazione del per quanto riguarda il nostro giveaway quindi in questo caso scopriamo insieme chi vince labirinthos bene signori ora è il momento di scoprire chi ha vinto labirinthos quindi useremo lo stesso metodo empirico che abbiamo utilizzato prima questa volta i numeri vanno dall'1 al 35 quindi vogliamo un numero dall'1 al 35 cara app vediamo un po rullo di tamburi 85 no non ci piace 100 ma per cortesia 3 ancora e vabbè ma allora è un vizio vince di nuovo il numero 3 e il numero 3 signori è samuel picciuto comprimi congratulazioni samuel per qualche motivo il numero 3 beh il numero perfetto d'altro canto congratulazioni samuel anche nel tuo caso ci sentiremo attraverso l'email che hai lasciato nel form e ti chiederò l'indirizzo a cui spedire labirinthos congratulazioni anche a te bene quindi signori congratulazioni a entrambi i vincitori sono molto contento di aver raggiunto questo obiettivo appunto dei primi 500 anzi 600 iscritti e sono molto felice di condividere con voi questi questi premi per dimostrarvi per dimostrarvi così come segno di ringraziamento per il fatto che appunto spendete tempo prezioso della vostra vita per seguire per seguire i contenuti i contenuti che produco e grazie di tutto e spero di vedervi ancora qui presto per i nuovi contenuti che abbiamo in progetto per il futuro del canale mosè dalla maschera riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao